Allora, ciao amici di Radio Bombay, siamo a Lemura, a Roma, io sono Filippo, sono in compagnia degli ABQ che hanno realizzato il loro primo album d'esordio intitolato Tecnicolor. Innanzitutto, perché il vostro album d'esordio si chiama Tecnicolor? A che cosa dobbiamo il titolo? Tecnicolor è il titolo di una canzone del disco, quindi il motivo principale è perché ci piaceva molto per l'anzolo e no, in realtà non è così. Siamo tutti e quattro appassionati di cinema e questo titolo ci sembrava bello soprattutto per questo, perché il cinema è molto importante per noi a livello di ispirazione, volevamo che questo trasparisse anche il titolo del disco e poi ci sembrava suonassere una parola sola. Ho capito. E per quanto riguarda sempre il vostro album, ho notato una grande conseguenzialità nelle tracce, anche se è un album d'esordio si può definire un concept album e se sì qual è il tema principale del vostro album? E allora, prendete questa? La prendete. Preparate. Allora, sì, innanzitutto non si può definire un concept secondo me perché un concept è una cosa che forse appartiene anche a un'altra cosa. Sicuramente. No, il disco è nato in studio, praticamente noi abbiamo portato dei pezzi che alla fine erano molto diversi l'uni dagli altri, come ad esempio i pezzi delle pillole lontane da qui che sono molto diversi l'uno dall'altro. In studio siamo riusciti in qualche modo a dare uniformità e ci abbiamo lavorato, insomma, perché questo si servisse. E siamo riusciti a creare questa atmosfera che è percepibile, insomma, quando si ascoltano. Sì, sì, di grande conseguenzialità assoluto delle tracce, di grande legame, nonostante magari la loro originaria differenza, divergenza possiamo dire. E avete fatto una scelta molto bella e coraggiosa, posso dire, cioè di mettere in free download il vostro album, per quale motivo? Che cosa vi ha spinto? Su Mediafire siete andati forti, insomma. Ma allora, ci ha spinto il fatto di voler arrivare a più gente possibile, essenzialmente. E anche perché a me personalmente è quello che gradirei a qualunque registrazione mi piacerebbe ascoltare, poterla scaricare e poterlo fare legalmente. Ho capito, quindi la libera circolazione della cultura prima del profitto, possiamo dire. Sì, è una cosa molto bella. E nell'album si sentono le vostre influenze, forse sicuramente le vostre passioni, Shoegades. Vi sentite più My Bloody Valentine o più Jesus e Mary Shane? Bellissima questa domanda, ci hanno mai fatta la domanda, sì, dove la rivolgo anche a voi. Io mi sento molto My Bloody Valentine. Sì, anche io, completamente. No, ma mica per niente. Ci piacciono tantissimo Jesus e Mary Shane, tant'è che in un pezzo del disco... Just like Connie dallo stereo della macchina. Sì, è proprio quello. Però davvero, forse Loveless è uno dei dischi che più ci accomuna, che più ascoltiamo e soprattutto di cui invidiamo davvero il grande lavoro di studio e la bellezza dei suoni. Cioè, ci piacerebbe in un futuro remoto riuscire ad avere un suono tipo quello. Ci troviamo ad ogni pezzo, però. Sì, esatto. Ci siamo riusciti. Ho capito. Va bene. E si parla molto, diciamo, d'amore anche, soprattutto nel vostro album. Ah, lo siamo dei teneroni. Sì. Qual è l'ingrediente fondamentale, secondo voi, per scrivere una canzone d'amore senza essere però sdolcinati? Senza essere banali, sdolcinati, possiamo dire? Io penso che sia parlare del proprio vissuto. Cioè, riuscire a parlare di qualcosa di cui si conserva un'esperienza, perché è difficile parlare specialmente d'amore, che è un argomento molto inflazionato nella musica pop. È difficile riuscire a parlarne in maniera interessante. Lo si può fare guardando indietro alla propria vita, insomma, in maniera lirica, magari, descrivendo episodi conosciuti. L'amore vissuto, nel senso letterale del termine, possiamo dire. E sempre a proposito di questo, chi è la ragazza, la protagonista di Nuova Zelanda? Chi è una ragazza in fuga dalla società, che ne rimane intrappolata? Chi è? È una ragazza che esiste realmente, soprattutto? No, no, no. Come in alcuni altri pezzi del disco, è la prima volta che dal punto di vista dei testi utilizzo questo stratagemma, cioè quello di scrivere dal punto di vista di qualcun altro, che siano personaggi reali o che siano personaggi di fantasia, fittizi, stereotipati. La ragazza di Nuova Zelanda è una ragazza immaginaria che viene da una realtà molto semplice, medio poichese, così, e viene a contatto per la prima volta con i meccanismi della seduzione, dell'innamoramento, se vogliamo, in una realtà balneare, al mare. Questo è il... sembra una cazzata, però, in realtà, no, no, perché è sempre vita vissuta, appunto. E un'ultima domanda, l'album, oltre a essere in free download, è autoprodotto. Quanto vi sentite indie da 1 a 10? Ditelo sinceramente, dopo queste due mosse. Mi, che dici? E' un sacco, per forza di cose, per i mezzi, ci vogliamo limitare. E' più una cosa alla quale ci dobbiamo visualizzare, per forza, è una cosa che vogliamo realizzare, perché noi in realtà vogliamo fare noti, senza eccessive categorizzazioni. Vabbè, allora, possiamo essere soddisfatti. Noi ci godiamo fra poco il concerto degli ABQ e salutiamo gli amici di Radio Bombay. Ciao! Ciao! Grazie. Grazie a tutti.